ed eccoci qua nuovamente ragazzi ciao a tutti ciao nuovo giro nuova corsa zulzetone come si diceva quando si andava a luna park con le macchinine bei tempi allora ragazzi oggi 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 devo darvi una notizia un po un po così ovviamente io devo avvisare perché ragazzi purtroppo adesso sembra che sia qua a godere ma non è così ma oggi questa recensione va dato merito a giordano di brescia ebbene sì ragazzi perché adesso vi racconto un po cosa è successo è successo questo ragazzi in queste settimane il buon giordano di brescia è andato a prendere il nuovo sony a 90 j ok ebbene voleva prendersi il panasonic ma ha detto ragazzi il panasonic quasi arriverà a luglio agosto settembre ho fretta stanno già presentando i nuovi a 90 j e vado a prenderlo bene è andato al media world è andato a comprarlo allora faccio una piccola premessa non è un ragazzo qualsiasi ok è un appassionato è un purista delle immagini anche lui pretende quindi voglio dire se c'è qualche problemuccio se ne accorge subito come me ne accorgo io come se ne accorgiamo in tanti ok allora cosa è successo ragazzi è successo che lui lo utilizza anche un po per i videogiochi ma si è accorto subito mentre era a casa che c'era qualcosa che non andava c'era qualcosa che non andava e vedeva su questo pannello uno sfondo strano una sorta di reticolato appena me l'ha detto mi sono illuminato perché mi ha mandato questo messaggio whatsapp e mi dice andrea guarda che si vede un reticolato e appena mi ha detto reticolato mi è venuto in mente qualche di uno di voi che mi aveva girato un link riguardante un canale americano che io però poi non avevo guardato che raccontava diceva ma certo che se sony inizia già con queste novità in questo modo cominciamo bene praticamente diceva poi questo ragazzo giordano si informa si informa bene e vede che in inghilterra già ne stanno parlando vede che in germania già ne stanno parlando negli stati uniti i forum sono già pieni di possessori di questo a 90 j e hanno verificato ci sono questi problemi ma giordano ha fatto una figata non si è dato per niente sconfitto ha cominciato a battagliare e ragazzi ha girato negozi centri commerciali tutto quello che c'era di a 90 j acceso è andato a provare perché ha detto no io adesso sto televisore lo sostituisco lui era convintissimo che fosse il suo difettoso allora ragazzi alla fine cosa è venuto fuori lui ha fatto un elenco di cose ed è venuto fuori che tutti i televisori che ha testato hanno questo difetto e adesso vi faccio vedere che difetto ha vi faccio vedere delle immagini che mi ha girato lui su whatsapp e comunque l'effetto che si vede ok che mi diceva che con la telecamera mentre prendeva non si vedeva bene ma occhio nudo si vede molto bene si vede bene non nelle scene scure si vede bene nelle scene molto chiare ad esempio dove c'è il sole il cielo infatti ci sono delle fotografie zone molto chiare vedi questo sfondo sceno e adesso ragazzi più o meno faccio anche un po di spirito dai vi faccio vedere che sfondo si vedeva dietro vedi uno sfondo del genere un reticolato versione alcatraz che ragazzi detto così mi viene da fare una battuta e che l'intelligenza cognitiva forse non è poi così tanto cognitiva come diceva il vecchio mike oi la la colpo di scena amici ascoltatori oi la la ebbene sì ragazzi avete visto io avevo un tappeto ciò qua un tappeto che forma esattamente la stessa estetica di questo di questo pannello adesso vi faccio vedere il video e poi andiamo alle conclusioni finali guardate un po di un po se così si vede un po meglio purtroppo mi devo avvicinare con il telefono eccole guarda mi devo avvicinare con il telefono perché se vado alla normale distanza di visione e io le noto ancora ma con la fotocamera non è più possibile notarle quindi almeno per farti vedere il video io mi devo avvicinare un po di più eccola qua guarda ma avete visto che roba avete visto che roba è un grigliato dietro cazzarola avevano ragione gli americani adesso io vado sul whatsapp di giordano eccolo qua allora lui ha fatto queste verifiche vi dico le quantità di televisori che ha testato è allora ha visto parliamo dei modelli di quest'anno è andato a ravanare anche sulla versione lg ok allora la lg ha scoperto che il c1 modelli quindi 2021 il c1 è pulito di quelli che ha verificato non ha visto questo grigliato messo dietro questo effetto che vi ho fatto vedere a tappeto ok del g1 no scusate del c1 detto del g1 ne ha trovato uno pulito e uno con questo grigliato dietro e non ho io personalmente non so se la 90 j monta già il nuovo pannello ma non lo so però è da approfondire poi ha provato sentite bene che numeri è 9 a 90 j sia 55 che 65 pollici e sono risultati tutti con grigliato a lui qua dice addirittura dice e con del banding pure minchia e poi ha testato due a 80 j sempre con il bar con la griglia e anche lì col banding questo ragazzi è quello che mi dice giordano ok poi ha verificato anche dei modelli del 2020 la serie cx e gx alcune unità avevano il grigliato la 89 ad esempio di sony ha visto che era pulito e l'hz15 di panasonic è pulito quello che è riuscito a trovare ha detto che è girato ragazzi è girato una settimana e quindi insomma allora lui cosa è successo allora questi sono i dati ragazzi di giordano allora lui cosa ha fatto è andato sui social e sta vedendo sta venendo fuori che il bubone sta scoppiando sta scoppiando perché si stanno lamentando tanti e di questo effetto qua ragazzi ve ne accorgete soprattutto se utilizzate i videogiochi come dico sempre sono a tutela del consumatore ma è del produttore ok non potete avere un televisore col grigliato anche vincent se ne è accorto però non ha dato molto peso a sta cosa c'è un video che fa vedere questa cosa qua se volete vi interessa vi eventualmente vi alleggo il link che anche vincent ha detto questa cosa quindi lui è un calibratore certificato meglio di lui chi lo può sapere non ho ancora capito se il pannello difettoso se è una struttura che c'è dietro che si nota non si nota però avete visto in alcuni modelli si nota in altri non si nota ma io sono senza parole anche perché mi viene a fare un po una battuta perché giordano ovviamente rideva perché ovviamente lui fa io col cazzo che adesso mi faccio ridare indietro i soldi e poi mi aspetto il panasonic che cacchio va bene ragazzi tutto qua volevo avvisarvi un po di sta di questa cosa qua e ovviamente spero che sia cosa gradita vi sto mettendo in guardia e prima di comprare il televisore se vi piace quel modello lì non dico di non comprarlo però assicuratevi che non ci sono ste griglie e però se queste griglie ci sono ragazzi rimandatelo indietro al mettente e state attenti anche sui modelli alcuni 2020 che alcuni ce l'hanno altri no alcuni allora giordano ha visto le recensioni anche in inglese qui in europa dice che alcuni se ne sono accorti ma perché giocando molto con i videogiochi che ci sono le scene molto chiare si nota molto lui ha detto che dopo 10 minuti me ne sono accorto appena sono partito con il primo film me ne sono accorto poi ho messo il mio videogioco test per fare un attimo delle prove e si è visto questa si è vista questa oscenità questo grigliatino ragazzi prima di salutarvi volevo ringraziare tantissimo giordano che si è sbattuto e ha voluto condividere con noi questa sua esperienza semore questo ragazzi adesso è una cosa importante vedete cosa significa fare gruppo fare squadra basta che uno si sbatta ok e adesso queste immagini vanno viste da centinaia di persone e riusciamo a far squadra e stare attenti pensate se non si condividessero ste cose che casini che ci sarebbero adesso e questo è il canale e questo che mi piace del canale condividere non siamo dei super tecnici ragazzi non sa vabbè io sono un tecnico riparatore ma parliamo dei di questi prodotti del mondo del tv vedete anche voi che senza entrare nei tecnicismi c'è tantissimo da dire tantissime cose da informarsi mi fa piacere ragazzi che continuo a ricevere telefonate di persone che mi dicono andrea cosa mi consigli cosa facciamo e io ragazzi la mia passione è quella di consigliare il prodotto migliore in base a quello che ne fate quello che che ne volete fare nel vostro televisore se lo volete tenere due anni se lo volete tenere dieci anni perché anche la durata del tempo c'è da prendersi una bella responsabilità ragazzi non è da poco però questo è ragazzi questo è lo spirito di questo canale ma il canale è questo soft leggero informazione dentro il canale ci sono appassionati molto appassionati alcuni sono anche ho visto lì calibratori ci sono altri che ne vengono da centro assistenza ma non entriamo nei tecnicismi scusate ci abbiamo vincent più bello è lui che si sbatte è chiaro ragazzi che se un televisore difettoso io devo dirlo devo comunicarlo ed è bello che condividiamo ok e se un televisore va da dio è bello che condividiamo e questo è il canale soft per capire le cose un po come sono non entrare nei tecnicismi perché ragazzi veramente se entriamo nei tecnicismi non guarda più un cazzo di niente nessuno questo canale è soprattutto dedicato alle persone che dicono che televisore prendo adesso questo è il canale più giusto e più tranquillo per dire come stanno le cose ok adesso ragazzi per finire e chiudere in bellezza un abbraccio a tutti quanti e chiudiamo con l'effetto grigliato ciao ragazzi ricordatevelo è una cosa tutta geografica geometrica avete visto è un quaderno a quadretti gigante praticamente ciao ragazzi ci vediamo